Non c'è nulla da fare, la sanità calabrese è sempre ultima. Anche cambiando i metodi di valutazione, la nostra regione non riesce a risalire dai bassi fondi della graduatoria nazionali dei livelli essenziali di assistenza. A partire dall'analisi dei dati 2020 entrerà in vigore il nuovo sistema di garanzia basato su 88 indicatori e la suddivisione in tre macro aree, ospedale, distretto, prevenzione, che dovranno essere tutti con punteggi superiori alla sufficienza, 60, affinché una regione sia adempiente. I risultati dell'ultima sperimentazione effettuata dal Ministero della Salute presentano qualche sorpresa, ma non per quanto riguarda la Calabria. Dal nuovo aggiornamento risultano adempienti alle tre macro aree ben 15 regioni su 21, un dato che segna un miglioramento rispetto alla prima deliberazione, basata sul 2016, dove erano adempienti soltanto nove regioni. Il punteggio di ogni area è determinato dalla media pesata di 22 indicatori così suddivisi, 6 per l'area della prevenzione, ad esempio copertura vaccinale pediatrica, controllo animali e alimenti, stili di vita, screening oncologici. 9 per l'attività distrettuale, come il tasso di ospedalizzazione di adulti per diabete, l'intervallo chiamato arrivo ai mesi di soccorso, i tempi di attesa, il consumo di antibiotici, il numero di decessi da tumore assistiti da cure palliative, gli anziani non autosufficienti nell'RSA. 6 i criteri per l'attività ospedaliera, tasso di ospedalizzazione standardizzato rispetto alla popolazione residente, gli interventi per tumore maligno al seno eseguiti in reparti con volumi di attività superiore ai 150 interventi annui. Rispetto alla prima sperimentazione, dove appena nove regioni avevano raggiunto la sufficienza in tutte le tre aree, si segnale un notevole miglioramento con 15 regioni promosse, tra queste Piemonte e Lombardia, ma anche Campania e Puglia. Alcune regioni invece presentano un indicatore negativo su tre, come la Valle d'Aosta e la Basilicata, insufficienti nell'area distrettuale. La provincia autonoma di Bolzano ha due indicatori negativi su tre e poi c'è la Calabria, faniglia di coda, che ha tutte e tre le aree in rosso, così come evidenziato anche dalla griglia LEA.